scoperto laboratorio informatico per conoscere le vincite delle slot machine moto in fiamme a tavuglia si indaga su rogo doloso maxi tamponamento a fano quattro auto coinvolte e traffico inti centro per l'autismo a pesaro ora il progetto è a rischio sport vis sempre più in alto ital service pari d'orgoglio buona serata benvenuti al nostro telegiornale di oggi giovedì 17 febbraio che apriamo con la cronaca e occupandoci di un'indagine molto particolare della guardia di finanza di pesaro che ha scoperto un 36enne residente in provincia che in casa aveva un vero e proprio laboratorio informatico con il quale era in grado di conoscere il ciclo delle vincite delle slot machine di mezza italia sapendo con precisione dove e quando giocare ottenendo vincite certe vediamo il servizio in casa aveva un vero e proprio laboratorio informatico dal quale poteva controllare il ciclo di vincite delle slot machine di tutta italia e questa l'attività illecita scoperta dalla guardia di finanza di pesaro che ha individuato un uomo di 36 anni che in un'abitazione della provincia aveva creato una vera e propria attività di supervisione informatica attraverso password illecitamente acquisite password tramite le quali accedeva alle slot machine disseminate in giro per il paese accedendo alla conoscenza del fine ciclo dei vari apparecchi e in pratica capiva il momento in cui era opportuno giocarvi e rimediarvi una vincita sicura per apparecchiare questo reato il 36enne si avvaleva di altri soggetti alle sue dipendenze che venivano indirizzati a giocare alle slot machine nel posto giusto al momento giusto insomma la possibilità certa di riscuotere le vincite permetteva di recarsi alle slot come se fossero dei veri e propri bancomat l'attività d'indagine ancora in corso di esecuzione ha consentito di individuare nella soffitta del 36enne indagato oltre 40 personal computer fra portatili e fissi tutti connessi alla rete e da ciascuno dei quali venivano controllate le slot machine collocate in diverse regioni tutto il materiale stato sottoposto a sequestro così come vari smartphone in uso all'uomo anch'essi utilizzati per le attività illecite giorni intensi per la guardia di finanza perché l'operazione arriva all'indomani della condanna a un anno e sei mesi di reclusione a un 50enne pesarese dipendente dell'inps scoperto dalle stesse fiamme gialle ad effettuare trading di borsa durante l'orario di lavoro dalla stessa inps aveva ricevuto due richiami disciplinari ma ieri è arrivata anche la condanna per esercizio finanziario abusivo in quanto svolgeva attività di trader a tutti gli effetti senza averne la qualifica o i requisiti di legge incendio nella notte appena trascorsa a padiglione di tavuglia dove attorno a mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in strada santa barbara per sedare un rogo generato da uno scooter in fiamme parcheggiato nel sottoscala di un'abitazione incendio domato da due autobotti e un'autoscala che hanno messo in sicurezza il perimetro di un'abitazione rimasta danneggiata in alcune porzioni sul posto anche il 118 ma non si sono registrate persone ferite o intossicate dal fumo i carabinieri indagano per una possibile origine dolosa alla base dell'incendio continuiamo con la cronaca ci spostiamo in questo caso a fanno perché quattro auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento questa mattina fanno sulla statale in viale romagna alle 8 e 20 una mercedes guidata da una 36enne albanese ha tamponato una suzuki guidata da un trentenne fanese che la precedeva da qui si è creato un effetto domino la suzuki ha tamponato una toyota guidata da un 72enne pesarese che a sua volta è finita contro la nissan di un pesarese di 42 anni nelle quattro auto coinvolte c'erano anche due bambini rimasti illesi mentre i quattro conducenti sono stati portati al pronto soccorso con feriti lievi l'incidente ha creato diversi problemi al traffico con la polizia locale che ha regolarizzato consenso di marcia alternato restano stabili dati dei contagi nella regione marche con 2.174 nuovi casi covid registrati oggi di cui 346 in provincia di pesaro urbino migliorano i dati dei ricoveri con 340 pazienti nelle marche cioè 9 meno di ieri di cui 32 in terapia intensiva ovvero 2 in meno di ieri si registrano altri 8 decessi di età compresa fra 77 e 98 anni e dopo la polemica politica delle ultime settimane sui fondi per il recupero dell'ex ospedale del san benedetto ora secondo l'opposizione in consiglio regionale è a forte rischio oppure la realizzazione del centro per l'autismo promosso da cinque anni in alcuni locali dell'asur in zona villa san martino vediamo il servizio nella settimana in cui la giunta regionale ha presentato il master plan dell'edilizia sanitaria includendo i fondi del pnrr che andranno a rifocillare gli oltre 900 milioni previsti per le strutture ospedaliere delle cinque province l'opposizione in consiglio regionale continua a stigmatizzare le falle del programma per quel che riguarda gli interventi auspicati nel pesarese nonostante le rassicurazioni della maggioranza l'ex complesso psichiatrico san benedetto continua infatti a essere evidenziato dal consigliere andrea biancani come una retromarcia su un percorso avviato di fondi promessi retromarcia che ora pare allargarsi la prospettiva di realizzare un centro regionale per l'autismo nella città di pesaro un centro che promesso da cinque anni con fondi già stanziati e che dal 2019 ha visto l'individuazione nei locali dell'ex scuola materna fra via vatielli e via alfano nel quartiere di villa san martino locali tra l'altro di proprietà già dell'asur un'area per la quale il comune di pesaro si è reso già disponibile ad una variante urbanistica per provvedere alla demolizione della struttura esistente ampliando i locali nell'ottica di un centro diurno residenziale o di sollievo secondo biancani però le ultime intenzioni della regione sarebbero quelle di realizzare in quegli spazi una centrale operativa territoriale non sfruttando i fondi pnr nella maniera auspicata all'inizio avevamo previsto di utilizzare questi fondi per recupero dell'ex manicomio ma la regione ha fatto una vera e propria retromarcia poi in questi giorni è emersa la volontà di realizzare una centrale operativa territoriale detta cotte all'interno appunto degli locali di via alfano io ritengo che questa sia una scelta assolutamente sbagliata perché spendere soldi pubblici su un edificio che è già stato destinato ed è stato individuato per realizzare appunto il centro per l'autismo da una parte vuol dire buttare via i soldi dall'altra vuol dire mettere in discussione e quindi proporre dei dubbi rispetto alla volontà vera di realizzare il centro per l'autismo per questo presentato appunto un'altra interrogazione dove chiedo se è vero che la regione intende realizzare la centrale operativa nei locali che erano stati individuati per il centro per l'autismo mi auguro ovviamente che questa notizia venga smentita e dall'altra parte chiedo però che punto è la progettazione da un'opera a rischio ad un'altra ferma da quasi due anni parliamo della scuola primaria di borgo santa maria della quale ci siamo occupati recentemente sul suo completamento arrivano ora però rassicurazioni da parte dell'amministrazione comunale lo stallo prolungato dei lavori alla scuola di borgo santa maria è arrivato sul tavolo del consiglio comunale il plesso scolastico fu sottoposto a corposa ristrutturazione interna alla quale doveva infatti seguire una susseguente manutenzione straordinaria della pertinenza della palestra suscettibile di distacchi di cemento armato eppure la scuola ha le impalcature ferme da quasi due anni senza che si muova una ruspa o un operaio ad accendere il riflettore su questo stallo prolungato il consigliere di prima cepesero emanuele gambini che si è fatto portavoce delle famiglie degli studenti con una interrogazione alla quale l'assessore alle nuove opere riccardo pozzi ha cercato di dare rassicurazioni nell'ultima seduta del consiglio le operazioni svolte ci hanno permesso di valutare quella che l'entità dei lavori necessari a questo a questo punto si è poi proceduta a una richiesta di un contributo ministeriale che è stato poi concesso da parte del ministero dell'interno dal dipartimento per le affari interni territoriali direzione centrale per la finanza locale che con il decreto dell'8 novembre 2021 ha assegnato un importo di 380 mila euro alla comune di pesero con finalità di straordinaria manutenzione dell'edificio legata anche a risparmio energetico attualmente sono in corso quelle che sono le procedure di progettazione al fine di poter entrare nei termini del contributo quindi stiamo lavorando per aggiudicare i lavori entro luglio 2022 e finirli entro l'anno insomma qualcosa almeno sulle carte burocratiche si muove galleggia invece ancora in una nebulosa la prospettiva di recupero del trentennale murales della palestra tanto caro a parte della cittadinanza di borgo santa maria però sul murales di borgo santa maria la situazione ad oggi diciamo non è possibile oggi quello di definire se questo potrà essere garantito oppure meno nel senso che sono in corso le valutazioni per valutare il mantenimento e sono in corso anche valutazioni tecniche sulla consistenza dell'intonaco quindi parallelamente allo stesso momento stiamo cercando di capire se con gli interventi che verranno utilizzati sarà possibile salvaguardare il murales si avvicina un weekend di tanti appuntamenti a teatro cominciando dal teatro della fortuna di fano dove dal 18 al 20 febbraio amat porta in scena lo spettacolo enrico quarto di luigi pirandello con l'adattamento di ero spagni e la regia di luca de fusco spettacoli alle ore 21 il venerdì e il sabato alle ore 17 la domenica e prosegue a urbani alla stagione di prosa nei teatri storici della provincia organizzata dalla stessa amat venerdì 18 febbraio al teatro bramante alle ore 21 e 15 andrà in scena lo spettacolo intitolato ciao amore ciao un'inchiesta su luigi tenco della compagnia asini bardasci e fabiola fidanza teatro anche a pesaro dove sabato e domenica la compagnia piccola ribalta proporrà sette minuti uno spettacolo che punta i riflettori sulla difesa dei diritti e del lavoro delle donne spettacoli nella sede della compagnia in via dell'acquedotto alle ore 21 per l'esibizione di sabato alle ore 17 per quella di domenica alla chiesa dell'annunziata di pesaro continua invece la rassegna di concerti playlist organizzata dal comune di pesaro amat e biper banca sabato alle 21 ad esibirsi sarà black sagan che porterà in scena brani del suo ultimo album se ci fosse la luce sarebbe bellissimo e oltre agli spettacoli che abbiamo appena citato sta per partire una ricchissima stagione al teatro sanzio di urbino si comincia il 24 febbraio con vanessa incontrada nella commedia scusa sono in riunione ti posso richiamare sarà il primo spettacolo di un ricco cartellone previsto da amata appunto al teatro sanzio che vi illustriamo in questo prossimo servizio dopo quasi tre settimane dalla conclusione del festival di sanremo e la chiusura del sipario del teatro ariston il 24 febbraio saranno i riflettori del teatro sanzio di urbino ad accendersi per la nuova stagione teatrale commedie danza drammaturgia contemporanea esperienze del territorio e teatro per tutta la famiglia sono diverse le sezioni in programma distribuite nei 12 appuntamenti serali cominciamo il 24 febbraio con uno spettacolo sicuramente molto divertente sin dal titolo che scusa sono in riunione ti posso richiamare sembra uno dei mille messaggi che lanciamo tutti i giorni il protagonista una bellissima e bravissima vanessa incontrada con gabriele pignotta una scrittura naturalmente contemporanea che appunto vuole prendere in giro farsi beffo un po di quelle che sono le nostre le nostre dinamiche ormai di comunicazione quasi tutte legate a dimensioni di fonosapiens come ci stanno chiamando appunto in questa fase dell'evoluzione umana tra le tante serate in programma il 15 marzo saliranno sul palco Nancy Brilli con Chiara Noschese che saranno le protagoniste dello spettacolo Manola l'8 marzo poi in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla verrà dato spazio alla danza del balletto di Roma che si esibirà in Astor un secolo di tango sarà invece intitolata bloccati dalla neve la commedia che porteranno Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere sul palco del teatro Sanzio il 3 maggio il 28 aprile poi Roberto Mercadini presenterà la più strana delle meraviglie monologo da e su Shakespeare il 14 e 15 maggio i riflettori sono invece puntati per All Dead Fall spettacolo che vedrà protagonisti la scuola di scenografia Accademia di Belle Arti di Urbino quindi il teatro ha un ruolo importante in questa grande civiltà di corte in questa corte e in questa dimensione che Palazzo Lucale occupa così integralmente con l'università, con il comune, con lo stato e con l'attività teatrale che la regione coordina che mi fa pensare che in questo momento stiamo riaprendo tutto con una proposta di grandissimo livello a cui dovremo corrispondere anche con le attività espositive e le mostre per le quali ha senso il ruolo di prosindaco e adesso questo bellissimo programma mi sembra sia un'ora per un vino e dimostrazione che tutti noi abbiamo lavorato per il bene della città Abbiamo sospeso le attività per motivo di questa pandemia perché purtroppo abbiamo ritenuto non opportuno diciamo abbiamo ritenuto opportuno superare questo momento senza creare ulteriori occasioni di rischio e adesso ripartiamo quindi a tutti gli effetti chiaramente abbiamo ragionato con Amat di riproporre dal 24 di febbraio il primo spettacolo anche con rappresentazioni leggere tanto per cominciare per gradire e poi magari la programmazione potrà essere anche integrata in corso d'anno Oggi presentiamo questa nuova stagione sperando che non si interrompa più perché non ne possiamo più di interrompere le attività qualsiasi tipo di attività soprattutto quelle culturali che ultimamente ci hanno mancato molto Chiudiamo il nostro telegiornale questa sera con lo sport perché naviga sempre più in alto in classifica la Vispesaro dopo la vittoria nel turno infrasettimanale di ieri contro la Lucchese non perde invece distanza dalla vetta Little Service dopo l'emozionante pareggio 2-2 di Napoli al quale avete potuto assistere proprio su Rossini TV Il turno infrasettimanale regala alla Vispesaro l'ottava vittoria della sua stagione e un settimo posto in classifica sempre più robusto Albenelli con la Lucchese va in scena uno dei migliori primi tempi della stagione bianco-rossa deciso dalle golle di due ultime arrivati dal calcio mercato Ferrini che apre le marcature ribadendo in rete un palo di tonso e a quadro che risponde al momentaneo pari di Belloni con un colpo di testa che corregge in rete una precedente zuccata dello stesso Ferrini Nel secondo tempo la Lucchese rimane in 10 uomini ma staziona nella metà campo di una Vis che resiste per la soddisfazione del suo allenatore Posso dire che a parte gli ultimi 10 minuti finali la squadra mi è piaciuta tantissimo e faccio complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una partita fantastica era comunque difficile ricaricare le energie ve l'ho detto questa volta erano quelle fisiche perché avevamo preso a fermo tante botte avevamo speso tanto cercando di nel secondo tempo vincere le transizioni e proporre qualcosa e quindi oggi ripartire ancora con la stessa testa di andare a aggredire alta la Lucchese di non farli giocare Abbiamo preparato un'uscita simmetrica astrologo quarto tre giocatori offensivi stiamo provando con il rientro di diversi giocatori a fare qualcosa di diverso sono contento e come sempre dico bisogna valorizzare quello che di buono viene fatto ma bisogna lavorare sulle criticità Con 35 punti in classifica a febbraio e un più 11 sui play out la classifica della Vis non era mai stata così bella in questi quattro anni di Serie C La classifica si guarda alla prima domenica di marzo questo mi hanno insegnato e mi sono sempre trovato bene Mercoledì di campionato anche per l'Ital Service che si conferma squadra dura a morire anche quando le cose sembrano non girare a favore A Napoli i campani scappano 2-0 ma nel secondo tempo Canal rianima i pesaresi che restano sotto fino a 10 secondi dalla fine quando Bolo regala un preziosissimo 2-2 al fotofinish Per l'Ital Service la vetta resta così lontana 4 punti complice il concomitante pari della capolista Simbio Spetrarca sul parquet della Camedosson Continua però il febbraio senza sosta dell'Ital Service sabato alle 21 altro match al Palafiera con Matera Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale come sempre però gli appuntamenti su Rossini TV Innanzitutto vi ricordiamo che questa sera non ci sarà il consueto appuntamento con Insieme a Canestro a causa insomma del riposo della squadra e anche delle Final 8 che ci sono alla Vitrifrigo Arena quindi appuntamento a giovedì 24 febbraio della prossima settimana quindi Mentre stasera in prima serata alle 21.20 uno speciale dedicato al bando PSR Marche riguardante l'agricoltura E poi ancora vi ricordiamo che domenica col consueto appuntamento con la diretta delle messe su Rossini TV alle 11.15 saremo in diretta dalla parrocchia San Martino Vescovo di Pesaro E dal 20 febbraio vi ricordiamo che su Rossini TV tutti i giorni alle ore 18.45 potrete vedere un piccolo approfondimento dedicato a quello che accade a Dubai all'Expo di Dubai quello che accade chiaramente nel padiglione Marche e quello che farà la regione Marche appunto noi vi terremo aggiornati tutti i giorni alle 18.45 Domani è venerdì torna una nuova puntata del nostro approfondimento settimanale Valle Foglia e Pian del Bruscolo Magazine alle ore 20 Domani invece torna la consueta rassegna stampa alle 7.20 in diretta Buona serata a tutti voi